Da una pagina Facebook nata durante il lockdown a un libro su Partenope fino all'apertura di una pizzeria nel cuore della città. Questo è il viaggio di Giuseppe Russo, creatore della pagina Il mio viaggio a Napoli, che su Facebook ha oltre un milione e duecentomila follower e che insieme alla compagna Federica Franco ha coronato il sogno, quello di inaugurare una pizzeria nei quartieri spagnoli, con una visione che va oltre il business orientata ai più poveri, come conferma il senatore Luigi Nave, che ha tenuto a battesimo la realtà. Questa svolta di rivalsa di un territorio martoriato, raccontato male, invece questa volta raccontato bene, con una storia che va a buon fine e quindi aspettiamo anche che faccia questo, cioè che mantenga la sua parola nel voler fare un ogni 15 giorni, regalare in giro per i senza setto a Napoli delle pizze a tutti quanti. Folla festante, tantissimi amici hanno partecipato all'inaugurazione, ma Giuseppe ha mantenuto la promessa, annunciando. Attraverso il nostro racconto della città di Napoli abbiamo toccato con mano le tante associazioni che si impegnavano per donare un pasto caldo ai senza fissa dimora della città di Napoli. Siamo scesi con loro in strada e abbiamo vissuto la realtà di quella gente povera e quindi noi nel momento in cui abbiamo aperto una pizzeria nella nostra città che ci ha dato tanto, è arrivato il momento di dare qualcosa anche noi alla città di Napoli. Il viaggio culinario tra le meraviglie partenopei continua fino alla prossima impresa di Giuseppe Russo.